...primono contro i padroni che ci sfruttano, noi oggi vogliamo qualcosa, noi oggi vogliamo vincere un salario che ci permetta non soltanto di sopravvivere, ma di vivere e di stare bene e questo salario per essere tale deve essere europeo, perché se noi qui abbiamo 10 e in Polonia e in Romania hanno 5, domani avremo 5 anche noi e questo non è ammissibile, tutti dobbiamo pretendere un salario minimo europeo come quello del Luxemburgo, 1900 euro al mese.